Sono 7.407 i positivi ai test covid nelle ultime 24 ore nel Lazio, su 76.198 tamponi effettuati con un tasso di positività al 9,7%. Secondo i dati del Ministero della Salute, 57 le vittime in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari 1.878, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 175.